Chiaro che c'è stata una grave sottovalutazione del problema, il Partito Democratico sta correndo oggi ai ripari, però con tre anni di ritardo. Abbiamo una legge che non è stata applicata e qualcuno evidentemente non ha vigilato, quindi siamo arrivati con ampio ritardo per un problema che già evidentemente era noto a tutti.